Buongiorno a tutti e benvenuti sul canale YouTube Sigfrido Millequadri. In questo video analizzerò un'opera di Edgar Degas, La lezione di danza. Andiamo subito a scoprire il quadro. La lezione di danza è una delle prime opere che Degas dedica al mondo del balletto ed è anche una delle più conosciute. Nonostante il quadro ci appaia estremamente spontaneo, è in realtà a frutto di una lunga gestazione. Degas, per quanto fosse in stretto contatto con gli impressionisti, tanto ad aver aderito alla prima mostra del gruppo che si svolse nel 1874, si mantenne fedele ad una preparazione meticolosa delle opere. La spontaneità nei suoi quadri non nasceva quindi dipingendo direttamente al cavalletto, ma attraverso una lunga meditazione sulle figure. Questo dipinto in particolare è il frutto di numerosi studi preparatori sui singoli personaggi che la compongono e nel corso di questo video ve ne mostrerò alcuni. Per quanto il pittore dedicò decine e decine di opere sia ad olio che a pastello al mondo della danza, è sicuramente riduttivo pensare a Degas come al pittore delle ballerine. L'artista seguì nel corso della sua lunga carriera diversi filoni e tra questi ne vorrei ricordare almeno altri due. Uno è quello legato al mondo dei cavalli e dalle corse ippiche, l'altro quello legato alla rappresentazione della donna al bagno. Qualunque fosse il soggetto delle sue opere, Degas era soprattutto interessato al movimento spontaneo più che alla posa tradizionale. Qualche informazione sull'opera, il titolo è La lezione di danza o anche La classe di danza, l'autore è Edgar Degas. L'anno di realizzazione si situa tra il 1872 e il 1875 circa. L'opera un olio su tela in misura centimetri 85 x 75 ed è attualmente conservato al Musee d'Orsay di Parigi. Degas ci mostra una lezione di danza che si svolge in una sala dell'Opera Les Pelletiers che era sede del balletto dell'Opera di Parigi. Siamo quindi in una sala del teatro di Rue Les Pelletiers che venne distrutto da un terribile incendio nel 1873 e che non è da confondere con l'Opera Garnier che venne inaugurata solo nel 1875. Il pittore aveva accesso alle sale del teatro grazie ad un amico orchestrale che lo aveva introdotto nell'ambiente. Dobbiamo quindi immaginare l'artista che si aggira nel dietro le quinte del teatro muovendosi con discrezione tra le stanze di corridoi, intento a fissare attraverso degli schizzi l'atteggiamento e le posture delle ballerine e degli insegnanti. Le idee raccolte dal vero sarebbero poi state rielaborate con calma nel suo studio. Nel dipinto vediamo una classe affollata con diverse ballerine, una ventina, e dal centro l'insegnante, un uomo attempato che tiene un bastone ed osserva con attenzione i movimenti della ragazza di fronte a lui. Le altre ballerine sono poste intorno a semicerchio. L'insegnante ritratto da Degas, che qui vediamo in un disegno preparatorio, è Jules Perrault, un ballerino e coreografo molto celebre ed influente in epoca romantica, che contribuì alla realizzazione di Giselle. Insegnò all'Opera sin dagli anni 30 dell'Ottocento, per poi viaggiare a lungo in Europa, diventando anche per un decennio insegnante di danza presso teatro imperiale di San Pietroburgo. Negli anni 60 tornò a Parigi, dove continuò a tenere delle classi molto apprezzate. Nel dipinto Perrault aveva poco più di 60 anni. L'osserviamo con il bastone in mano, che veniva utilizzato per dare il tempo alle ballerine. Degas riesce a rappresentare mirabilmente la postura plastica dell'insegnante. Notiamo come l'uomo sia perfettamente calato nel ruolo. Tiene le gambe divaricate, che trasmettono un senso di agilità non del tutto perduta, ed ha lo sguardo di chi è capace di cogliere ogni gesto delle ballerine per correggerle o lodarle. Il bastone, che trasmette un senso di autorità e fermezza, si accorda con l'autorevolezza del protagonista. In questo dipinto Degas è interessato al lungo e faticoso lavoro di studio e preparazione a cui sono sottoposte le ballerine. Sembra che il momento rappresentato dal pittore sia quello della fase conclusiva di una lezione. Mentre l'insegnante sta ancora esaminando una ballerina, le altre intorno a lui appaiono ormai esauste e sembrano non prestargli più attenzione. Proviamo ad esaminare alcuni degli atteggiamenti delle ragazze. La ballerina di schiena, in primo piano, tiene una mano sul fianco, porta un fiocco rosso in testa e si fa aria con un ventaglio, dandoci un'indicazione anche sulla bella stagione. Notiamo ai suoi piedi un cagnolino e un innaffiatoio. Nella parte sinistra della tela notiamo una ragazza seduta, forse su un pianoforte, che si sta grattando la schiena e sta facendo una smorfia. In questa immagine osserviamo il disegno preparatorio della ballerina seduta. La ragazza è Marie Van Goetheem, la ballerina quattordicenne che appare nella celebre statua realizzata da Degas. Notiamo il tratto sicuro della matita del maestro che aveva a lungo studiato e copiato i classici. Torniamo al dipinto. Le ragazze sono colte in gesti spontanei e naturali, mentre si sistemano un orecchino, il fiocco in testa, il nastro al collo, una spallina del vestito. La loro concentrazione è ormai allentata e si rilassano dopo l'impegnativa lezione. In fondo alla sala alcune ragazze stanno chiacchierando ed intravediamo anche delle figure adulte che portano vestiti ordinari. Sono evidentemente le mamme che aspettano le figlie per riportarle a casa. Sono passati quasi 150 anni ma sembra di vivere una scena contemporanea. Il taglio del quadro è molto interessante. Degas fu molto interessato alla fotografia e nelle sue opere troviamo il costante impegno ad accogliere nuovi stimoli per integrarli con la tradizione. La sala prove è dipinta di scorcio e le linee delle tavole del parquet ci portano verso il punto di fuga che è esterno e posto alla destra del dipinto. Il nostro sguardo è naturalmente portato a spostarsi da sinistra verso destra incontrando l'insegnante, il vero centro e fulcro della scena. Due sono le fonti di luce. Una proviene da destra dove sono poste le finestre della sala che non vediamo direttamente. La seconda invece proviene dal riflesso di un grande specchio con una cornice monumentale posto a sinistra. Nel riflesso dello specchio possiamo notare una finestra che si apre sui palazzi circostanti. La scena sul piano cromatico è prevalentemente neutra e Degas la ravviva attraverso i nastri di fiocchi rossi, gialli, verdi e azzurri delle ballerine. L'evanescenza del tulle delle ragazze dona leggerezza al dipinto. Nel 1874 Degas abbandona provvisoriamente la versione della lezione di danza del Musee d'Orsay e si dedica ad una seconda versione, ora conservata al Met di New York che vediamo nell'immagine. L'impostazione del dipinto è simile ma possiamo notare alcune differenze. Intanto la sala prove appare meno monumentale, non vediamo traccia di marmi e colonne che caratterizzano la versione parigina. I listelli di parquet qui sono posti in senso orizzontale. Nella parte sinistra notiamo il grande specchio che riflette sia alcune ballerine poste sulle tribune in fondo alla sala, sia la finestra che ci mostra uno scorcio di Parigi. L'insegnante è spostato più a destra e continua ad osservare con il bastone in mano le evoluzioni di una sola ballerina. Un paio di ragazze in primo piano sono voltate verso di noi, accanto a loro notiamo uno spartito, un pianoforte ed un contrabbasso posto a terra. Alla parete notiamo anche una locandina del Guglielmo Tell di Rossini. Anche in questo dipinto dominano le tinte neutre, ma qui Degas accentua i tocchi di rosso complementari al verde chiaro della parete. Questo dipinto venne presentato alla mostra degli impressionisti che si tenne nel 1876. La lezione di danza è dunque un quadro che dietro la sua apparente freschezza e immediatezza nasconde un lungo lavoro di preparazione. nulla è casuale, ma frutto di un'accurata meditazione da parte di Edgar Degas, che si sentì sempre legato alla pittura classica e dai canoni di disegno e composizione. Con Degas abbiamo uno straordinario esempio di pittore aperto alla modernità, alle nuove tecniche, ai nuovi stili, ma anche saldamente legato alla tradizione. Ci siamo dunque immersi nell'atmosfera di una lezione di danza. Degas ci ha trasportato all'interno di un teatro e ci ha fatto vivere un momento come se fosse reale. Se avete gradito il video mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Fatemi sapere nei commenti cosa pensate del quadro. Risponderò a tutti. Vi aspetto al prossimo.